e ragazzi eccoci qua con una nuova presentazione un saluto a tutti quanti dal fantastico mondo dell'elettronica perfetto eccoci qua appunto con un nuovo nuovissimo circuito se non punto nella scorsa presentazione abbiamo visto il nostro amico selettore da quadro elettrico industriale perché ovviamente sono da quadri elettrici industriali ok quindi multiposizione perfetto creiamo quindi un rapido circuito ok con doppia spia perfetto ok controllata dal nostro amico selettore nel quale io quindi avrò due posizioni e qualcosa sarà sempre attivo perché come tutti interruttori deviatori se non in casi particolari avremo sempre un carico attivo perfetto però invece in questo caso posso anche spegnerlo ok perché abbiamo tre posizioni ok centro che equivale a circuito aperto cioè zero ok destra si destra di qui veramente c'è la sinistra sinistra e destra ok abbiamo montato tutto quanto ci serviremo del nostro amico accumulatore 12 volts non c'è bisogno di tirare in ballo il nostro alimentatore perfetto siamo pronti è tutto collegato ok 3 3 si 3 2 1 ok sulla prima posizione allora immaginiamoci quindi che noi abbiamo due posizioni la prima che accenderà o meglio attiverà un carico in questo caso la nostra spia verde utilizziamo ancora i colori verdi e verde e blu che sono così belli voi cosa dite ragazzi scrivetemi sotto i vostri commenti di cosa ne pensate dell'accostamento dei colori e quali sono i vostri colori preferiti che li utilizzeremo se ce li ho se ce li ho perché non è detto perfetto comunque nel mio caso appunto userò la verde e la blu come le altre volte ok prima posizione attiverò quindi dato che il nostro carico è rappresentato da da due spia attiverò la prima spia cioè quella verde ok torno nella posizione centrale se riesco perché sono sono duri e con una mano sti dannati 0 perfetto tutto spento e invece mi sposto sull'altra posizione cioè verso sinistra perfetto e attiverò invece così la seconda spia cioè quella blu ed ecco quindi come funziona il nostro amico deviatore non altro che un deviatore ok che assume quindi due posizioni differenti e in mio carico sarà sempre attivo ok in poche parole ci sarà sempre un carico attivo a meno che non sono sulla posizione di 0 e questo vale per 1 2 3 50 500 900 tutti gli deviatori che vogliamo mettere e allora adesso torniamo sulla posizione di 0 perché somma l'elettricità costa per cui direi di risparmiare un po di corrente perfetto allora teniamo spente le nostre due spie e andiamo quindi a vedere un po i collegamenti ok abbiamo detto ragazzi se può se possiamo farne a meno non mettiamo nessun schema perché è completamente inutile e allora partiamo quindi dal nostro amico accumulatore 12 volt perfetto positivo negativo ok ovviamente mi servo dei nostri amici morsetti ok perché poi devo fare la giunzione perché non possiamo attaccare i morsetti direttamente ai contatti delle nostre spie ed è del nostro selettore perfetto per cui positivo entriamo col positivo andiamo all'ingresso del nostro amico selettore ok scusa tirati su grazie ok entriamo dentro col positivo il positivo è quel filo la grigio entriamo dentro facciamo poi ovviamente dobbiamo portare il positivo anche all'altro ingresso dell'altro sì o come sì non mi morsetto esatto dell'altro contatto perché abbiamo due blocchi di contatto perfetto per cui ovviamente andiamo a portare il positivo anche all'altro usciamo poi con due positivi per cui abbiamo la continuazione del positivo che andrà ovviamente uno va alimentare una spia e l'altro andrà alimentare l'altra spia ok perché ne esce uno da un blocco positivo e l'altro sempre positivo e la qui di problemi non ce ne sono ok quindi uno va la spia e l'altro va l'altra spia stessa cosa però per poi il comune di massa che andrà a prendere ok l'uscita sì le due uscite opposte delle due spie bisogna dargli la massa per accenderli se non gli diamo il meno non si accende dato che siamo in corrente continua ovviamente perché lo stiamo prendendo dal nostro accumulatore per cui positivi li abbiamo attaccati ok gnd perfetto dall'altra parte bene poi ovviamente un filo collettore ok che va andrà a portargli il meno che poi si richiude su se stesso sulla batteria e quindi andrà a chiudere il circuito perfetto ragazzi ok se ci sono domande come al solito scrivetemi sotto grazie mille per la vostra partecipazione sia voi ragazzi che sto parlando direttamente con loro perché se non gli facciamo i complimenti poi alla fine si offendono per cui grazie spie grazie selettore di aver partecipato a questo circuito e ci vediamo nella prossima presentazione ciao a tutti